Qualche volta succede che nella vita si incontrano delle persone che in qualche modo te la stravolgono, che ti riempiono di stimoli, che ti migliorano, che ti arricchiscono, che ti lasciano qualcosa che sai ti rimarrà per sempre. Bella Follino è stata una di queste per me. Diciamo che lei mi ha veramente lasciato moltissimo, mi ha lasciato la sua professionalità, la sua passione, la sua serietà, mi ha insegnato a essere capace, brillante, caparbia, ad affrontare le situazioni in modo sempre molto onesto e assolutamente responsabile. Mi ha insegnato attraverso la sua professionalità ad essere organizzata, ad essere sempre sul pezzo. Diciamo che mi ha sostenuta, mi ha incoraggiata quando ne avevo bisogno, ma mi ha anche sempre messa in discussione quando invece necessitavo uno sprono per crescere, per imparare. Mi ha insegnato l'autoreonia, mi ha insegnato a essere competente, a sapere di che cosa io stia parlando. Guadagnarsi il suo incoraggiamento, guadagnarsi la sua stima era difficile, ma il momento in cui si riusciva a raggiungere quel risultato, beh, allora quel momento era impagabile.